Selling May and Go Away. Questa è una strategia antichissima, una strategia veramente che è nata tantissimi anni fa, è stata applicata su tanti asset finanziari ed è una strategia di trading barra investimento, diciamo così perché fa solo due operazioni all'anno utilizzata spesso dagli istituzionali in alcuni mercati che erano stagionali e badate un po', funziona ancora. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video dove parliamo della strategia più famosa della storia, una delle strategie più famose della storia di gestione dei propri capitali che ancora ad oggi sta funzionando. Ma la domanda è molto semplice, questa strategia ha performato anche su Bitcoin, come è andata su Bitcoin negli ultimi anni e come era andata anche tantissimi anni fa. Si può applicare sui mercati delle criptovalute se non si vuole diciamo ragionare più di tanto, sbattersi un po' più di tanto. Questa è una strategia che ha due regole in pratica e può essere utile a molti che magari gestiscono patrimoni magari anche in gente, hanno bisogno di poche regole e cosa fare per proteggersi magari da fasi eventuali di ribasso. Ne parliamo in questo video, è un video dedicato a questa strategia ma soprattutto un video dove vi farò vedere tutti i dati analitici di questa strategia. Andiamo a fare il backtest, che cosa ha fatto, come ha performato, quali sono i dati che dobbiamo andare a valutare per verificare se effettivamente una strategia del genere può essere idonea o meno ai mercati delle cripto, qual è la volatilità di questa strategia e soprattutto come è andata negli ultimi anni perché negli ultimi anni è stata svalorditiva su Bitcoin, incredibile. La cosa che dovremmo fare intanto per questa strategia è quella di utilizzare la piattaforma Multicharts di trading ragazzi perché non riesco a farvi fare questi backtest su TradingView per diversi motivi, non mi piace il performance report che tira fuori e preferisco analizzarlo su una software che è estremamente professionale, viene utilizzato per analisi quantitativa a livello professional, non è gratuito quindi non ha senso insomma per fare questi test che non date ad acquistare, costano migliaia di euro. Però concettualmente c'è un punto di inesso fra TradingView e Multicharts, sono la stessa azienda, sono stanzialmente TradingView la parte grafica di Multicharts. Allora Multicharts ragazzi tra le altre cose viene fuori da una spin-off di Easy Language con la piattaforma TradeStation di tantissimi anni fa e viene utilizzata per queste cose. Ma semplicemente a noi interesserà andare a vedere quello che è il performance report di questa strategia e andremo ad analizzarlo man mano proprio utilizzando questa piattaforma perché ho dovuto scrivere il codice, lo script in linguaggio Power Language, quello di Multicharts, Easy Language praticamente modificato, è banalissimo. Allora iniziamo per punti, quindi andremo a utilizzare questa piattaforma, andremo a vedere un performance report, quindi tutti i dati li andremo ad analizzare per comprendere se effettivamente una strategia del genere può essere utile a tanti neofiti ma soprattutto a tanti investitori anche con grossi capitali che vogliono più stabilità nell'andamento della loro equity curve di portafoglio quando investono per esempio su Bitcoin. Questo è essenziale ragazzi perché se avete 10.000 dollari di capitale, ok, le oscillazioni possono essere pesanti però su milioni di dollari capite bene che le oscillazioni di Bitcoin sono estremamente più pesanti in termini di valore assoluto. Allora in termini pratici quindi primo punto andiamo a comprendere qual è questo tipo di strategia e come si sviluppa. La ragazzi strategia Selling Man Go Away è una strategia molto banale, dice una cosa molto semplice, intanto si basa sugli andamenti mensili dei asset finanziari, viene applicata a tutti gli asset finanziari in maniera indiscriminata soprattutto a quelli volatili, quindi commodity, azioni e criptovalute. Ha funzionato per quelli che sono alcuni mercati, cioè soprattutto quelli aggregati. Parlo per esempio dei mercati azionari aggregati, intendo gli indici di borsa, non parlo delle singole azioni che hanno vita propria. In alcuni casi ha funzionato benino anche nelle commodity perché c'era un effetto stagionalità anche nelle commodity. funziona anche su bitcoin. Non l'ho provata, sono sincero, su tutte le altre cripto, cosa che si può tranquillamente andare a verificare, però mi interessava ragionare appunto su bitcoin perché secondo me questo tipo di strategie hanno necessità di avere un sottostante che sia appunto o il benchmark o appunto un sottostante come un indice, quindi un aggregato, no? Quindi qualcosa che è composto da tanti sottostanti come per esempio può essere un Nasdaq 100 o l'SP 500. Allora, come funziona la strategia? Banalissima. Andiamo a vendere le nostre posizioni a maggio, il primo di maggio di ogni anno, e le ricompriamo il primo di ottobre di ogni anno. Allora, in pratica io faccio così, attendo ottobre dell'anno 2024 e faccio buy il primo ottobre. A mattina mi metto lì, tac, apre il mercato, buy il primo ottobre. Poi non faccio più nulla. Attendo in pratica il primo di maggio e qualsiasi sia il prezzo, il primo di maggio, guadagnato o perso, è irrilevante, io vado a vendere l'operazione il primo di maggio. Quindi, sell in May and go away. Questa strategia ha funzionato incredibilmente per decine di anni, ragazzi, ed è una banalità. Ah, tra le altre cose, ragazzi, da analista quantitativo studioso ormai da oltre 15-20 anni di analisi quantitativa, vi assicuro che più le strategie sono banali e semplici, più funzionano a livello di analisi quantitativa. Quindi, se pensate che per fare analisi strategie di trading servano milioni di righe di codice di software, assolutamente non è così. Anzi, quei tipi di strategie sono destinate quasi sempre a decadere nel corso del tempo, quindi hanno bisogno di una manutenzione costante, cambiamenti costanti nei parametri, perché sono overfittate, si dice così in gergo tecnico da statistico, però questo, insomma, dopo migliaia di prove fatte, ragazzi, ne è uscito fuori che più le strategie sono banali e semplici, più funzionano sui mercati. Questo è ovvio perché i mercati non sono prevedibili, perciò l'utilizzo della strategia deve essere solo un sistema, un modo attraverso il quale noi eliminiamo quella volatilità presente nei mercati che non ci consente di stare all'interno dei mercati. Quindi il vero senso di questa strategia non è overperformare il benchmark, in questo caso Bitcoin per esempio, ma gestire meglio la volatilità. E nel settore delle cripto, in particolar modo, questa questione, questa soluzione della gestione della volatilità, può anche scaturire con un altro effetto che è proprio quello di overperformare il benchmark e quindi fare meglio addirittura dell'holding di Bitcoin. Si può fare solo se l'asset sottostante è molto volatile. Quando abbiamo invece degli asset che seguono un trend molto lineare, come per esempio l'SP500, il Nasdaq 100, che hanno avuto dei trend lunghi negli ultimi anni, molto, molto lineare a rialzo perché manipolati dalle emissioni di liquidità dalla parte delle banche centrali, questo tipo di strategia non performa mai come l'holding appunto dell'asset. Ma su Bitcoin non è così. Bene detto tutto questo, ragazzi andiamo a fare adesso i calcoli numerici. Allora ci spostiamo sullo schermo. Intanto quello che vedete è Bitcoin su base, time frame, daily. Prezzi sono quelli di Bitfinex perché io su Multicharts utilizzo quelli di Bitfinex da sempre disponibili per questa piattaforma. Dobbiamo fare una cosa, allora c'è un'interfaccia un po' particolare, quindi non vi preoccupate, ma è molto semplice. Sto andando a cambiare la resolution delle candele e andare a indicare che le candele devono essere formate da un mese, quindi ogni candela sarà appunto quella mensile. La durata di range l'ho presa dal 2010, che più o meno ci sono i dati di Bitfinex, e questa è la struttura. Allora questi sono gli andamenti di Bitcoin dal 2010, vi faccio vedere il grafico un po' più strutturato, qui purtroppo fa degli spike nel 2013, poi indietro non ci sono dati, almeno in questo caso non ce li dà, e quindi non mi consente di farvi visualizzare il grafico in maniera pulita. Purtroppo Multicharts da un punto di vista grafico non è assolutamente paragonabile a TradingView, che TradingView è molto meglio, però è un motore potentissimo per l'analisi appunto dei backtest, eccetera. A questo punto mi servirà inserire quello che è una strategia che io ho dovuto scrivere, ragazzi, con uno script, eccetera, questa in questo caso sono due righe, e si fa insomma in questo modo. Quindi andiamo qui, queste sono le differenti tipologie di strategie che ho, alcune le ho costruite, io altre non ho già presenti in Multicharts, ragazzi, questo per farvi comprendere quante cose si possono fare e quante strategie si possono andare ad analizzare, per esempio utilizzando l'analisi di natura quantitativa. Allora, ho trovato qui il sell in May, vado a inserire, gli dico ok, tra l'altro c'è già inserito quello qui, dopodiché devo fare degli aggiustamenti in termini di proprietà di questa strategia in modo tale da farla strutturare in maniera corretta, quindi gli dirò utilizzami un capitale di 1000 dollari per fare il calcolo iniziale con 1000 dollari, perché partiamo dal 2013, Bitcoin nel 2013 era sotto i 1000 dollari, in modo tale da fargli comprare sempre ed esclusivamente un singolo contratto di Bitcoin, quindi io farò in modo che questa strategia compri solo un singolo contratto di Bitcoin, gli do appunto un numero di mesi come reference per il calcolo di due, e babam, 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 eccolo qui, ragazzi. Allora, è stata strutturata adesso la strategia, Multicharts vi inserisce i buy ed i sell direttamente all'interno dell'interfaccia, vi faccio vedere magari qualcosa più da vicino, anche perché il sell in May è avvenuto proprio all'inizio di questo mese, quindi teoricamente all'inizio di questo mese c'è stato il sell di questa strategia, che era entrata a ottobre, guardate qui il buy in ottobre e il sell in maggio. Intanto, una cosa veramente esemplare, dall'ultimo ciclo di Bitcoin, cioè quello essenzialmente del 2022, questa strategia ha performato di più della di Bitcoin stesso. Incredibile, ragazzi, una cosa incredibile. Ha performato meglio dell'andamento di Bitcoin, perché è stata così precisa da entrare, in pratica qui, con un livello di pricing, di ingresso a ottobre del... in questo caso, ragazzi, ovviamente mi sono dimenticato di dirvelo, è il 31 ottobre, non il primo di ottobre, quindi a fine ottobre dell'anno. È entrato il... nella candela che poi si va a formare, ragazzi, no, a dire la verità, ecco qui, adesso vi spiego meglio questo concetto, altrimenti viene meno. Allora, qui trovate la definizione, appunto, della candela come se fosse l'1 novembre, ma in realtà è la candela che si va a concludere l'1 novembre, perché Multicharts ragiona con le candele a conclusione e non a start, quindi non trovate l'inizio della candela, quindi il mese di ottobre è il mese che voi trovate scritto con 1 novembre, ma in realtà significa che si è concluso l'1 novembre, quindi quella fa riferimento al mese precedente, sono un po' macchinoso, ma serve un po' per i calcoli, appunto, del backtest. Quindi questo è proprio l'ingresso che avviene all'opening, perciò avviene essenzialmente l'1 di ottobre, non il 31, l'1 di ottobre al 19.429, poi è stata venduta il primo di maggio, anche in questo caso, la candela appunto, quella che conclude, si conclude a giugno, quindi il primo di giugno, è stato chiuso a 29.263, poi è rientrato nell'ottobre successivo a 26.976, quindi in realtà ha chiuso, vedete, a 29, ha riaperto a 26, quindi prendendo il 10% in più circa del valore, perché si è fatto tutta questa discesa, e adesso ha chiuso qui a 68.45. Incredibile, il Selle Main Go Away nell'anno 2022-2023 ha performato meglio dell'holding di Bitcoin, meglio di Bitcoin stesso, è una rarità, una cosa del genere, può avvenire solo appunto, come vi dicevo, se ci sono dei mercati volatili. Precedentemente, come si è comportato? Andiamo a vedere per esempio nei cicli precedenti, faccio riferimento a tutto quello che era la questione pandemica del Covid. In pratica, intanto il buy è avvenuto nel 2018, quindi si è stato fatto quindi tutta la parte ribassista, e poi è stata chiusa a maggio di quell'anno del 2019, prima del pump, e quindi qui diciamo che non ha performato molto bene, ma tra le altre cose neanche Bitcoin ha performato benissimo, perché poi è andato a fare il down del Covid. Qui poi è rientrata, e nell'anno dal 2019 a ottobre 2000, a maggio 2019, 2020, è entrata e non ha guadagnato quasi niente, quindi un po' positiva, quindi qua ha perso poco, qui poco positiva, poi è rientrata prima del super pump, attenzione, proprio quello di ottobre, ed ha chiuso alla perfezione, ragazzi, prima del crash del caso del maggio del 2021, e poi è rientrata qui per andare a chiudere prima del crash finale della Bear Market, quindi anche in questo caso guardate, ha tutto sommato gestito bene, qui molto male, perché si poteva fare molto meglio ovviamente, in questa parte la parte ribassista l'ha gestita bene. Andiamo a vedere anche qualche altro dato un po' in passato, anche se qui per visualizzarlo dovremmo fare delle magagne cicliche di natura, diciamo, di allargamento del grafico. allora qui abbiamo per esempio l'altra Bull Run, quella di 2017, che ovviamente fece livelli molto più elevati di pump, qui gestita discretamente, non benissimo, perché poi tra il massimo e la chiusura c'è stato un dimezzamento, però è riuscita, diciamo, a salire anche su questo carro, fermo restando che per esempio qui, guardate, si è perso una bella fetta, cioè il passaggio tra più o meno 1.400 dollari di Bitcoin fino a 4.000 dollari, quindi qui si è perso diciamo una gran fetta di pump. Bene, allora fatto l'analisi di questo tipo grafico che poi ci interessa tanto e non quanto, andiamo a guardare quello che invece è il backtest di questa strategia che poi è la cosa che ci interessa di più analizzare i dati. Allora, backtest di questa strategia ve lo riporto qui. Allora, intanto, giusto per fare cose abbastanza tranquille, vi faccio vedere i risultati che sono assolutamente positivi ed sono importantissimi da vedere, quindi il netto sono 89.000 dollari con 1.000 dollari investiti, ragazzi, ovviamente partiamo da Bitcoin che valeva pochissimo nel 2013, quindi ovviamente dovete ragionare anche su quello che ha fatto Bitcoin, sì abbiamo guadagnato 89.000 dollari su 1.000 dollari di capitale investito, sono delle performance stellare, infatti il return on account che trovate qui in questa parte non riesco a sottolinearla, sono circa 1.454 ma quello sul capitale iniziale è 8.971% ragazzi, vabbè, è pazzesco però vi ripeto stiamo andando e ragionando con Bitcoin all'inizio, però questo vi fa anche comprendere quanto una strategia banale semplice come questa in realtà ha straperformato ragazzi anche su Bitcoin perché ci sono anche delle cose che dobbiamo andare a controllare. Allora, qui abbiamo l'andamento di come si è andata a muovere ma sostanzialmente mi interessa farvi vedere anche l'equity close to close in maniera tale che non ci sono le variazioni finali quindi con le ultime operazioni chiuse che sono state proprio quelle di questo mese e qui ragazzi è evidente che c'è un andamento estremamente rialzista ma 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 ci sono dei ma e ragazzi ve lo dico intanto 11 operazioni fatte in tutto questi anni perché sono pochissime le operazioni della selling mango e way ma il 72% di queste operazioni quasi il 73% sono positive ragazzi questo significa che comprare a ottobre vendere a maggio nel 73% dei casi della storia di Bitcoin dal 2013 è stato positivo sono pochi casi e quindi prendeteli con le pinze però ovviamente è un dato che non è da sottovalutare anche perché questa strategia non è stata creata per Bitcoin è stata creata decine di anni fa ragazzi veramente decine e decine di anni fa per altri asset finanziari noi l'abbiamo solo applicata a Bitcoin ed è estremamente significativa secondo me da questo punto di vista perché non ha nessuna overfitting non è stata fatta per Bitcoin quindi è la stessa strutturata per le stocks che è stata poi replicata o le commodity replicata appunto sulle crypto incredibile poi altri tipi di dati per gli amanti della della analisi quantitativa come il range average win average loss che è quasi 5% poi alcuni che si ricordano i vecchi dati profit factor 13.22 strabiliante però ragazzi c'è un problema allora questa strategia così applicata sembra dire ok vai alla grande strategia top eccetera però in realtà ha un punto debole cioè la volatilità perché questa strategia comunque subisce la volatilità di alcuni momenti abbiamo visto infatti che nel momento in cui eravamo longo su questa strategia ci siamo beccati tutto il down del covid tutto il down della parte finale della bear market del 2018 quelli erano anche erano anche down consistenti ragazzi con cifre enormi quindi abbiamo detto all'inizio che una strategia di investimento per gestire meglio le nostre posizioni di trading barra investimento deve essere anche in grado di limitare la mia volatilità altrimenti mi espongo troppo a determinati rischi preferisco a quel punto non far nulla stare in holding e basta se l'asset ha un trend rialzista e vabbè mi assumo tutti i bear market però una strategia dovrebbe limitare appunto un po' anche la mia volatilità questa strategia lo fa discretamente ma non tanto bene tanto è vero che è proprio quello il down di questa strategia andiamolo a guardare allora c'è una struttura che bisogna andare a verificare intanto quello che vedete qui sotto sono i drawdown della strategia che in questo in questo caso specifico il drawdown è circa il 14% del totale che è un drawdown assolutamente ottimo devo essere sincero però questa è la curva close to close cioè le operazioni quando sono chiuse non quelle durante l'operazione perché anche qui guardate come i dati se rappresentati in un determinato modo possono indicarvi delle cose o altre ragazzi le statistiche ogni tanto possono mentire dipende come le andate a presentare ci sono tanti dati che andrebbero rivisti anche sui fantasmagorici calcoli fantasiosi che si fanno quando si parla dell'interesse composto eccetera sono tutte barzellette perché vanno analizzati meglio quei dati e per comprendere cosa succede nell'interno di quella struttura di investimento quello è difficile non fare la formuletta quindi anche in questo caso la struttura del drawdown sembrerebbe ottimale ma qui stiamo guardando una strategia quando ha chiuso l'operazione cioè significa che tra maggio e ottobre mentre io sono tra ottobre e maggio scusate mentre sono all'interno del mio trade aperto io non sto vedendo quello che succede in termini di drawdown quindi sto vedendo solo quando chiude quando chiude faccio meno 14 quindi fantastico è un ottimo drawdown ma guardate un po' che succede quando non siamo in chiusura e ragazzi i numeri cambiano notevoli perché qui è invece l'equity al dettaglio di tutto quello che succede nel momento in cui io ho la posizione aperta e durante l'apertura della posizione guardate qui non guardate anche l'ultima parte ma guardate qui un drawdown del 90% ragazzi quindi durante l'anno 2020 in pratica sono andato down al aprile quindi era marzo del 2020 ovviamente durante la pandemia per la questione pandemica del 90% mentre le altre sono intorno intorno al 64-70% questa è la struttura di massimo drawdown di questa strategia avvenuta proprio nel bear market del 2018 e nella questione della pandemia nell'ultima fase ha avuto un drawdown del 40% 44% ora in sostanza cosa significa che quando io ho le posizioni aperte con questa strategia subisco dei ribassi del mio portafoglio che possono arrivare fino al 90% ovviamente nel caso di una pandemia quindi escludendo la casistica esogena magari della pandemia potremmo prendere in considerazione il dato del 65-70% morale della favola io strutturo questo tipo di strategia per proteggermi dalla volatilità ma mi da più o meno la stessa volatilità che ho nel bear market quindi sì e no allora se poi eliminiamo il dato del mercato orso del 2018 vediamo che gli altri due sono dati molto più favorevoli perché sono dati del 40% qui in percentuale e 40% 35% anche qui attenzione a non guardare il dato di su perché il dato di su è in termini assoluti ovviamente più si va avanti siccome la strategia guadagna più si perde quindi questi dati che vedete sono il numero maggiore in termini di valore assoluto perché chiaramente la percentuale è la stessa ma il capitale è molto più alto perciò ragazzi allora drawdown del 40% 45% sono corretti per una strategia del genere perché si deve fare un confronto con quelli che sono i drawdown del bear market che sono intorno al 75-80% di bitcoin però se valutiamo poi i danni i momenti più difficili di questo periodo di bitcoin cioè il momento pandemico del famoso marzo del 2020 che il crollo io ero davanti agli schermi quella notte meno 36% in poche ore solo in pochi minuti a dire la verità neanche ore allora lì non siamo protetti allora morale della favola quando sviluppiamo delle strategie questa strategia è utile è molto utile perché ci può dare degli spunti di riflessione nei periodi magari tra maggio e ottobre non si performa bene con i mercati delle cripto questa è la quello che otteniamo poi però dobbiamo stare attenti quando comunque siamo in posizione da ottobre a maggio perché se avvengono dei bear importanti o delle fasi di crisi dobbiamo limitare i danni di questa strategia utilizzando magari altri sistemi di uscita per protezione magari potremmo dire non opero mai da maggio a ottobre perché quello non ci porta tanto siamo fuori dal mercato però quando sono da ottobre a maggio all'interno dell'operazione sto facendo il long sto più attento a determinati periodi per evitare di prendermi il drawdown già ragionando in questo modo la strategia selling mei e going way potrebbe diventare un'ottima strategia da bilanciare il vostro holding è un'ottima strategia che vi consentirebbe anche di ridurre molto la volatilità avete visto cosa significa andare ad analizzare i dati e non fermarsi alle semplici apparenze o alla semplice superficialità delle cose a volte si trovano dei vantaggi banali semplici facili anche da mettere in atto e con dei dati calcolati e qui sono tanti tanti dati veramente che noi siamo andati ad analizzare fatevi sapere cosa ne pensate anche voi di questo tipo di strategia io un po' di chicche ve le ho date e un po' di riflessioni ve le ho date scrivetemi nei commenti se l'avete apprezzato e se già state ragionando anche su queste cose ma ovviamente non sono consigli finanziari ciao a tutti beata a tutti